Ciao e benvenuto alla nuova edizione del Gran Galà di fine stagione, ci fa molto piacere averti qua con noi, con chi abbiamo il piacere di parlare, da dove vieni? Io sono Depitano di Daniele, vengo da Carpi in provincia di Modena e mi fa molto piacere fare della strada, venire in questo bellissimo raduno internazionale di Alfa Romeo, uno dei più grossi raduni importanti del registro storico Alfa Romeo e di Stile Alfa Romeo. Io ho sei Alfa Romeo, ho quattro Alfa Romeo Montrea, tutte conservate, hanno vinto tutti i concorsi di eleganza, sono andati su ruote classiche, auto d'epoca, automobilismo d'epoca, ho un GT Junior 1376 cofono pari e ho un Alfetta GT i 1008 giallo Piper con 23.000 km da nuova, ancora con il nylon che forse non ce l'ha neanche il museo della casa di Arese. Beh, cosa ne pensi di questa manifestazione, dei suoi organizzatori e del club? Sono dei bravi ragazzi, gente che si dà da fare, gente che ci tiene a questo bellissimo e glorioso marchio Alfa Romeo, io mi trovo molto bene ed è una bellissima organizzazione, sono onorato di fare 700 km per venire qua a fare questa manifestazione in compagnia con voi. Definiscimi cosa rappresenta per te l'Alfa Romeo nella vita di tutti i giorni, hai detto che hai sei macchine, raccontaci. Io posso dire che la passione dell'Alfa Romeo l'avevo da quando avevo 8 anni, infatti mi dice mia madre ancora che la prima parola Alfa Romeo, sempre a casa mia, sempre delle Alfa, dalla 1750 alla Giulietta, la 75, i miei genitori, tutti alfisti. Io per me l'Alfa Romeo è il marchio più glorioso che c'è, prima l'Alfa Romeo dopo la Ferrari. Bene, grazie per essere venuto qua con noi, ci ritroviamo poi al pranzo, intanto avremo l'occasione di vedere le tue splendide auto. Grazie.